Burloni, oggi i miei amici mi dovranno salvare, ma guardate in che mondo siamo, lo riconosce... Beh, sì, lo riconoscono, basta fare queste cose, dai, l'hanno già riconosciuto. Allora, Kendall, quanti mi piace per questo man save sulla tua Candy Craft? Allora, immediatamente dobbiamo raggiungere subito, nei primi 5 minuti di caricamento, i 20.000 mi piace. Eh, 5 minuti è un po' tanto, non faccio 20.000 avviso l'intimo. Vabbè, comunque, ragazzi... No, lo devono fare comunque. Lasciate un mi piace, mi raccomando. Adesso inizia, però, Kendall, dovresti, diciamo, come dire, toglierti quelle cose che hai, perché... No, no! Perché? Potresti uccidere a me, potresti... Ah, non ho ancora paio il timer. Tolgo tutto. Io faccio partire il timer, ve lo dico, eh. Alexa, imposta un timer di 5 minuti. Cosa prendete? Cosa prendete? 5 minuti. Prendi tutto. Ok, partita! Io vi ricordo una cosa, che praticamente le ragnatele potete utilizzarle solo unicamente per un round, eh. Ma io non le ho neanche prese, quindi. Bravo, bravo. Nemmeno io la prese per ora. Eccolo, con la già spregata. Eh, loco, ma che cavolo fai, scusa? Penso io. Io non ho molti passaggi segreti, ma va, non muore, scusa. Io vi dico solo che ho una striscia di cuore, non abbiamo messo la seconda, quindi il primo round va così, eh. Ma è difficile con uno strisce sola. Ma infatti, dai. Eh, adesso ci proviamo. No, dai, non è possibile. Allora, raga, tranquilli. Non c'è nulla e questo mondo è super kids friendly. Non puoi morire in questo mondo. Ti stai buttando giù, stai morrendo. Vabbè, in quel caso sì, puoi morire. Io mi sono perso, però, aiuto, dove siete? Siamo verso il castello, buddy. Ok, io ero dall'altra parte, ero al campo da calcio. Dov'è il castello? Loco! Scusa, non sei coccato di castello? No, loco! Ammazzatelo! Sto scherzando, sto scherzando. Ma no, non è vero che sto scherzando la serie veramente. Mamma mia, loco. Ma io fico Kendall da anni. Sono orribile, sì. Io e loco non faremo mai più video insieme. Sto scherzando Kendall. Ah, ti voglio bene. Oh, Marci, basta correre. Che cazzo. Escolto, sto cercando di fare una roba, ok? Eh, io... No! Ma, le frecce che fanno danno, però... Sei una pigna. Loco, ma che cavolo fai, loco? Ma scusa, ma le frecce con il... Cioè, che... Ho capito, ma non puoi uccidermi così. No, non è possibile. Alexa, basta. Elimina timer. Ho Regeneration per 20 minuti. Anch'io. Non credo sia vera questa cosa. Slash... Effect clear, ma da Marci. Eh, dovete ridarmile qui. Ma Regeneration ce l'ho fissa, perché? Ah boh? Ah, perché è per il beacon, raga. Eh, vabbè, poi ti togli, dai. Sì, 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 vero, vero. No, raga. No, no, non è per il beacon. Lo sto rimettendo, ti vedo! Cazzo, fai finta di niente, andiamo, dai. Ma puoi accettare pure nella sua vanilla, dai. No, vabbè, ma tanto è un mondo copia. Eh, ho capito che è un mondo copia. Diciamo, raga, questo è un mondo copia. Se si distrugge qualcosa, non succede niente. Datemi le strisce di cuore, ma senza Regeneration, per favore. Ve lo chiedo per... Grazie mille, controllo, eh. Stiamo a posto, non c'è la Regeneration. Non c'è la... Dai, dammi sta frecciata, Buddy. Dammi sta frecciata. Eh, vabbè. Non si mette davanti che andrà. Va, va, che ricopro tutta la vita, ok. Intento. Alexa, io posso un timer di 5 minuti. Quanto sei bello pieno di frecce. Guarda se la testa, poi. Quel porco spino. Ok, partite. Sempre di qua, vai. Ma che mia strada. Ragazzi, ora, adesso si ragiona. Vi faccio vedere io che ora non moriremo. Vai, vai. No, no. Traierdiamo di brutto? La lava, la lava, la lava, la lava. L'acqua, c'è l'acqua. Siete acqua ovunque, raga. L'acqua, c'è l'acqua, riprendi. Grazie, raga, grazie, raga. Sto facendo quello che volevo che faceste. Oh, lo so. Non lo so, in realtà non lo so. Ho in mente una cosa da fare. Ti vuole buttare dalla montagna, raga. No, non mi voglio buttare. No, non mi voglio buttare. Cos'è morto prima? Ah, di... Di loco. Di loco. Loco, ammazzolo. Ammazzolo così per... No, no, quello lì, no, non facciamo così, dai. Ok. Dove aver recuperato un po' di vita. Non è giusto, non è giusto. No, sono full vita, aspetta che... Mangio. Vai, capo, mangia, mangia. Vai, loco, vai, vi spiego, ragazzo. Grazie. No, tranquilli, non c'è problema. Dove sta andando questo? Dove sta andando? Da nessuna parte. Ma pensi di andare? Perché sotto? Io vado sotto. Ma lei non conosce il mio mondo, non so cosa c'è qua. Cosa c'è lì sotto, Ale? Non c'è niente. Non posso scendere. Ah, ok. E dove vai ora? Dalle pecore, ti ammazzano loro? No, 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 è che voglio fare una cosa, però non riesco a farlo, ok? Datemi un attimo. Questo vuole soffocare, secondo me. No, non voglio soffocare, non voglio soffocare. Tra l'altro c'è anche la stradina per andare nel land nel mio mondo. No, ma perché glielo vittigli? Ma toglie, chiedo! Ma non la troverà mai. Ma non la troverà mai. Togliete tutto, togliete. Gli sboscate, è arrivata la stagione. Mi stai rimettendo. Non vale così. Questa cosa mi vuole fare, ma prendo poco danno. Prende mezzo cuore, dai. Dai, raga, mannaggia. Allora, cosa faccio? Devo ragionare. Ragiona bene, Marci. Marci, ragiona bene. Cosa puoi fare? Io mi sarei alloggiato giù continuamente dalla stradina, però sai come... Pure un albero è alto. Ma quelle cose non ci piacciono. Non ci piacciono queste cose. Dai, loco, vai. Non beccate, vabbè, però. Ma dove sei andato a casa? Ma cosa pensi di ritrovare a casa? Materiali, materiali. Qual è il tempo? Qual è il tempo? Alexa, quanto manca il timer? Chiudete, chiudete. Alto timer, 5 minuti, restano 3 minuti. Ma come faccio in 3 minuti, ragazzi, a farlo? Non ce la farà mai, non ce la farà. Mi spiace, è finita. Tanto fa sempre la scena che non ce la faccio mai, ognò, ognò, ognò. Eh, ma nel mondo di Kendall non è così facile come ti può sembrare. Sì, infatti, perché da me ci sono poche cose, pochi passaggi segreti, poche cose che ti possono uccidere, non c'è molto. Ma ti faccio un passaggio segretto. Lava qua, ce la lava. Dove la lava? Ho chiuso la lava. Ho anche la lava. Ha girato strada, ha cambiato strada. Ha cambiato la flessa di bambù. Cosa vuoi fare? Ha girato strada. No, raga. Ma le spugne ce le abbiamo, domanda da un migliore. Io ce le ho, io ce le ho. Ok, perfetto. È dentro un castello, li ha chiuso, ha chiuso tutti. Ma che castello? Questa è la mia torre. Si lancia dalla torre, Gata. Si lancia dalla torre. No, 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 ragazzi, ci sono delle finestre, apritele. Aia. Come apritele cosa? Aspetta, da che parte? Entrate le finestre e cercate di entrare. Oh, io ci sono, io ci sono. No, sono andato da l'altra parte. Guardatelo. Ho preso poco danno, ho preso poco danno. No, no, raga, dov'è? Eh, campo di bambù. Eh, campo da calcio. Eh. Quanta vita hai, Marci? Eh, troppo, purtroppo. Ahimè. Ahimè, ne ho veramente troppo. Non so come morire, aspetta. Eh. Ok. Sì, 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 colpisci mi ancora? Sì? Va bene. No, no, fermi, raga, fermi, non lo colpite. No, ho già tirato istantetto, ho già tirato, quindi va bene. Non mi ha tolto il giusto. C'è un modo per morire, in realtà, eh? Non so che c'è un modo, lo so che c'è. Nel deserto c'è. Lo so, c'è un'altra pozza di lava. Boh. Non diglielo, non diglielo, per favore. Non lo dico, tranquilli, tranquilli. Tanto il tempo sta finendo. Guarda che porco spino che è, Marci. Dove sta andando? No, nel nether, no, no, nel nether. No, 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 tiratelo fuori, tiratelo fuori. Dov'è? Sì, 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 sì. È dentro, è dentro, è dentro, è dentro, è dentro. Eh, siamo fregati, raga. Dov'è? Siamo fregati qua. Eh, dov'è, dov'è, l'ho perso. Dov'è, l'ho passato. Vistosi, ecco. Dai nel 5 minuti cancellati. Alexa, imposta un timer di 5 minuti. Terzo round, ragazzi. Oh, ma guarda come è partito subito. Oh, ma come è partito. Invece qua sotto. Che niente, non c'è nulla. Che sta cosa, raga? Niente, Marci, niente. Ho capito cos'è, raga. Cosa è? L'ho capito, l'ho capito, l'ho capito, l'ho capito. Raga, dott'è, mi rinmossa. Eh, Kendall, me l'aveva detto, ragazzi. Me l'aveva detto. Che cosa? Non so se ci arrivo al land, raga. No, no, come v'è capire che questa è la storia del land? Eh, ma vedi tutto, hai detto tu che era una storia fatta tutta in... Eh, vabbè, però. In terra battuta. Eh, non è facile. Mi sa che è lunga, eh. Arrivo più meglio al land di lui. Eh, mi sa che non ce la fa in 5 minuti, è un bel rischio, eh. Sì, sì. Sì, sì, infatti, ciao. Ha cambiato strada. Non mi piace. È andato giù a sinistra. L'ho perso. È del fiume, è del fiume. Cioè, vi pare veramente che vi faccio quello che volete voi? Ma, per favore. Raga, dov'è? Non so dirti dove sono. Ok, mi butto un render per la casa e spero di trovarvi. Ok. Hai preso la strada brulla? La strada brulla? La strada brulla? Ok, so dov'è allora. La strada. La strada quella bella. Ah, sto male, raga. Ok, ho anche un altro idea in realtà di quello che potrei fare, però non lo faccio. È uguale, dicela. Ascolta, non è che posso dirti tutto. No, infatti, ci devi dire a noi le cose. No, 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 no. Ecco, vi vedo, raga, vi vedo, arrivo, arrivo. Vieni, Kendal, veloce. Mi sto muovendo. Sì. Questa strada la conosco come le mie tasche. Ho ucciso il drago almeno quattro volte. Bravo, Kendal. Cinque, sei, sette volte. Buddy scoppietta, Buddy scoppietta, Buddy scoppietta. Non è vero, adesso non è vero. Buddy è diventato un petardo. Perché? Ma non abbiamo ancora, ragazzi, non abbiamo ancora le ragnatele. No, è vero, non le avete usate, raga. Come, non le ho usate, loco, prima una, però. No, è vero, è vero. Non le abbiamo usate. Grazie, è vero. No, non le ho mai usate. No, non le ho mai usate. No, è vero, io non l'ho visto che le ho usate. Ma tu, tu eri quello che a scuola, quando la prof dava un compito che avevamo già fatto, dicevi, prof, l'abbiamo già fatto. È proprio così. Oh, dai. Non ho capito. Non abbiamo usato la nientele. Ha snitchato sul loco. Oh, tienilo qua, tienilo qua, tienilo qua. Ancora, 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 ancora. Ok, sono al villaggio, ho visto il golem. No, loco. Ok, c'è il villaggio. Come non uccidi il golem, scusami? Lo sto facendo cadere in un cratere. Bravissimo. Lo sto portando via, tu non sai dov'è. Ragazzi, mi sa che non ce la faccio. Non ci arriverai mai. Dobbiamo alzare un po' il timer, secondo me. Ma che? Lasciamo un po' di brio, vediamo un po'. Dove siete? Dove siete? Buddy, l'hai ucciso? No, 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 ho dei problemi di percorso. Mi sono mai provocato. Dove sei? Aiuto. Raga, il golem, sono al villaggio. No, ragazzi, tenetelo lontano da questo golem. Tranquillo, tranquillo, non lo attacca. Dattemi, non morire, non morire. E non morire non è facile. No, signor golem, attacca me. Stai alla larga, cosa fai, sei un pazzo. No, 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 no. Ok, bravo, 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 vai, vai. Sta scappando, Marci. Tranquillo, ce l'ho io. Raga, la strada, non trovo la strada. Non c'è più la strada. Qua devi andare a occhio. Un altro golem. Non ci servono strade. Non è vero, questa è la strada. No, non è questo. No, come non è questo? Non è che per caso ha preso l'ender, per vero? Io l'ha preso, c'è mano. Ah, fantastico. Batti. Eh. Allora, è per la mutata. C'è miseria, baci. Ragazzi, scusate, due ore che ho tenuto lontano quel golem. Eh, basta, scappare, non dovevi morire. Ma no, perché lo stavo attaccando. Se ti allontani troppo, lo attacca. Eh, va bene, stavi più o meno lì e facevi slalom. Uh, raga. Ma che da che strada hai fatto? Eh, ci stavo avvicinando. Alexa, quanto manca il timer? Tra l'altro, tutti i miei fan mi dicevano, va. Due minuti e trenta secondi restano un minuto e venti secondi. Manca pochissimo. L'ultimo i miei fan, quando ho fatto questa strada, mi hanno detto, ma sei matto? Ma perché non andavi nel nether e tagliavi la strada? Eh, c'è ragione. Eh, raga, io non lo sapevo con la roba del nether, ok? Sai, che andano. L'ho fatto tutto quanto, ho consumato cinque pale, ho consumato per farla tutta. Io comunque voglio dirvi una cosa, abbiamo rimesso il timer perché ci sono dovuti bloccare, ma i minuti sono giusti. Sì, 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 ancora? Ancora? Sono morto, addio! No, come c'ho mezzo cuore! Voglio morire di enderpearl! No! Non ci credo. Possibile. Raga. È tutto merito di Buddy. Grazie, grazie. Buddy è squalificato. Buddy è squalificato. Ma ci sei arrivato all'end in un minuto? No, ancora... E non è che mancava tanto, con le enderpearl ce la faceva, eh? No, no, aveva ancora un'altra strada, un altro villaggio, e poi doveva scendere giù, non ce la faceva. No, non ce la faceva. Come un'altra strada, un altro villaggio? Sì, ce n'era ancora. Tre su tre! Fortissimo questo Marci, fortissimo. Alexa, elimina timer. Noi ci vediamo in un prossimo video, lasciate tantissimi mi piace. 30 minuti e 30 secondi cancemo. Hai ragione, hai ragione, Alexa, scusami. Lasciate tantissimi mi piace e la prossima volta la facciamo così, con tutti questi cuori.